Ciao a tutti ragazzi, eccoci qua su Bassimulator21, benvenuti in un nuovo video del mio canale come sempre prima di iniziare vi invito a iscrivervi, ad attivare la campanellina perché altrimenti vi perdete le novità che comunque youtube non ve le manda eccetera eccetera ma ce ne frega allora, eravamo nel video scorso arrivati alla prima missione del bus adesso dobbiamo praticamente fare la linea numero 100 la linea leggendaria numero 100, ve la faccio vedere subito, partiamo subito linee, vedete, linee tradizionali del tram dobbiamo fare 3 stipendi mentre guidi un tram con la pubblicità Heritage Train Line 3 stipendi, bla bla bla, vabbè, io ce li metto tutti e tre allora, andiamo subito al deposito dei tram, ce li compriamo tutti e tre 86 milioni, chi se ti frega facciamo i sordi ragazzi, lagga leggermente perché è per l'ombrello qua sotto concessionario, allora ci prendiamo questo allora, in teoria se metto il freno a mano ok, devo andare nel garage allora, il mio aspetto rivestimenti mettiamocene uno questo dai, classico e pubblicità, abbiamo detto train city timeline, ecco qua, questo questo interni invece mettiamo questi qua mi piacciono così questi applicati applicati sì, a questo set perfetto poi ne prendiamo ancora oh e scendi e scendi poi poi genero tram prendiamo il T0 già la fenona qua questo qua voglio anche questo allora freno a mano pubblicità no, aspetta aspetta decalcomanie no dimenti scusate ce lo prendiamo questo ce lo prendiamo così sì, sì città è questa interni sempre ho questi applica solo a questo ok grazie ok ne prendiamo ancora uno deposito tram no tram ok prendiamo ancora questo sì, ok adesso vediamo qua ok freno a mano allora no ah già allora vediamoci eh ci sta dai città per questo interni mo ci mettiamo questo dai applica città ok fuori servizio perfetto allora seleziona linea allora vediamoci qua ovviamente oh oh ma ha già messo ah ti ha già messi allora mettiamo nove e l'otto da 10 tram e il 10 poi ce l'ho io ok usiamo il 10 usiamo il 10 solo io uso l'ultimo il 10 ok allora guida ora o il 10 perfetto ci siamo fammi fammi spegnere le luci qua e che cacchio ok le porte sono chiuse lo cacchio devo andare io vabbè questa è la linea 100 raga devo fare 3 fermate così e devo andare a destra e poi si aspetta 14 va qui va eccolo qua l'altro mio amico beh bene perché se si prende lui le se lui se le prende quelle più lui dovrebbe fare la linea 100 andiamo se ce la se ce la fa lui a me va bene perché lui fa la linea 1 il mortacci sua frena ma dov'è la prima fermata mannaggia ma non era qua la prima sto facendo la linea no 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 cacchio ho sbagliato ma quale cacchio è aspetta fatemi vedere vabbè o questo cacchio mi fa andare dai e vabbè dai facciamo un giro più turistico eh però eh eh non frena un cacchio ok ed è spavonato via via perfetto di là di là ok va ah no ma è giusto allora perché devo andare nella zona nuova allora 20 prendiamo andiamo a sinistra vabbè si può stare solo a sinistra andiamo a 20 19 18 ok 18 gli va bene la curva perfetto il tempo qua non so che cacchio frena frena ma non va in retromarcia questo no solo frena ah non sto mettendo mai le frecce mannaggia è vero perché il tram è 6 binari che gli serve adesso io vado di qua mi do non mi dà il bonus 26 dai non è non può fare dai oh là il ponte mio preferito è quello dove c'è vabbè dove c'è ah che bello 3 stipendi devo fare così forse speciale 100 perfetto allora io faccio dipende quanto dura se dura poco le faccio le faccio se dura tanto me le faccio off camera al prossimo video vedete la prossima missione da fare così non vi perdete niente mi raccomando qua ci vuole questa pubblicità qua non interessate come mania come varie dovete avere questa pubblicità assolutamente oh cacchio frena ok andiamo a 20 e 9 vi ricordo che il tram comunque comunque il tram come si dice non potete mai prendere una multa perché più di 50 non fa va a 34 quindi ah piccato ah ok lo 0 sta lì cioè in verità dovrebbe stare vabbè dritto dritto bravo io vado a bomba tanto non dovrei prendere andando troppo velocemente in cura ok freniamo un pochetto qua è giusto dov'è la prima fermata mortacci sua va a me che è giusto guidare dal deposito però ci facciamo la bella mitica linea 100 vai dobbiamo andare di qua destra frena ok siamo qua siamo in discesa dobbiamo andare a bomba vai 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 che non c'è nessuno vai 28 9 30 oh non ce la fa è neanche in discesa regà guardate i miei bus frena 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 ok devo andare dritto oh sì mamma mia che casino devo fare la 5 cacchio 4 dov'è la prima fermata ma regà mi sa che è impossibile io non ci credo che che non c'era un giro più corto per arrivarci lì eh questa è la 5 quindi non può essere come troppo veloce 2 ma questa è dai vai io non ci credo raga ma infatti non è questa dai la 2 è questa qua davanti spero che sta cacchia di corriera che è mia tra l'altro walk walk sushi grande che se ne va vedete sono un genio a fare ok eh raga che vi devo dire si parte la 2 questa è la 2 perfetto orario ticket biglietto ordinario corsa singola 1 allora tu mi dai 10 2 e 20 allora facciamo 2 e 4 6 e 8 3 e 4 6 e 8 10 allora ordinario giornaliero 1 6 e 20 abbiamo 6 e 20 8 e 20 9 e 20 2 4 6 8 basta è il biglietto di controllo altrimenti perdiamo troppo tempo ci sono anche quante fermate ha ok andiamo a destra piano ok ralentiamo qua non è questa la fermata no ah no 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 grazie ah dai frena vai ballo taxi io devo andare a sinistra si che è perfetto oh il traffico va bene eh questa è la fermata oh c'è la rampa perfetto beh perfetto era meglio se non ci fu è stata fermata lì che devo andare dritto ma ah ci fermata il miglioramento la miglioriamo subito hello si un attimino la rampa lo so lo so che è stato anziani corsa singola 1 euro 80 all'ora fa cosa track 820 biglietto student biglietto student singola 2 vai stampa 20 euro 360 allora 80 4 2 3 4 5 6 7 no uh ordinario corsa singola che ho avuto fortuna eh 220 220 grazie mille silver park si passa? so io che ci passa non lo so ma va bene oh la rampa io te l'ho messa eh signorina ma come non lo so ah devo fare così ecco ma ma eh mi dispiace la rampa non funziona che ti devo dire quindi mi dispiace sorry prendi il prossimo tram arriva fra due minuti la linea è super attiva non preoccuparti senza non arrabbiarti oh cacchio devo andare a sinistra devo andare ma io l'ho visto dritto io ma è giusto dritto ma tacci su ma ma si che è giusto dritto porco ah da qua già prende vedete tac 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 vedete in fondo là io devo andare a destra quindi è giusto a destra però devo frenare altrimenti mi dà penalità o va a destra e questa è la fermata sono in orario ecco qua arrivano i sordi raga salta a calcolo vediamo un po' quanto guadagno 1.7.000 beh tutto lì sono salite scesi tutte e via allora fermate porco schifo dove cacchio andava quello è scemo ha fatto cacca sotto portacci sua e si è buttato sotto ah già finita la 5 allora ci sta dai 5 fermate beh GG fermo la stop 5 fermate fatta pronta miglioramento è migliorabile allora io miglioro tutto vai scendete 4 stelle vai allora 1 l'ho fatta 1 di 3 perfetto andiamo avanti allora sono scesi tutti sì ma devo andare dritto sì ok ma dov'è la numero 1 scusate la 4 volete vedere che la numero 1 è quella è quella laggiù ok destra commetto che è quella laggiù io allora le curve strette basta farle questo è riservato ah ah questo è un altro deposito non lo sapevo vediamo dov'è review ah ok perfetto bene 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 benissimo ragà questo è un altro garage ah dove c'è il garage c'è anche quello per i tram perfetto beh tanta roba ragà ah quello era l'albus che mi parlava gli mortacci è andato troppo velocemente in curva voglio vedere che la 2 inizia ma la 1 non c'è ragà ma allora è giusto inizia dalla 2 ma è buggata sta linea schifosa io non l'ho toccata perché se me la prendo vuol dire che è buona vabbè meglio ragazzi chi se ne frega allora ce la facciamo insieme per la la niente perfetto molto bene destra fermeli non buttatevi sotto senza all'utreno precedenza all'utreno l'utreno anzi l'utram l'utram sono io l'utram 27 salita niente male è che frena 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 avanti tutta tuta cacchio c'è un bus colonneat adesso ci chiede qua ok devo andare a sinistra frena questa è la seconda si è la seconda fermata allora questo qua è l'altro bus 100 linea 100 vediamo se è quella fatti vedere davanti dai e parti no dai vai 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 che tocca a me vai che tocca a me vai che tocca a me non fa ritardi perché qua arriverà biglietti a bomba qua eccola lì sì che certo ordinario corsa singola 1 perfetto 0 2 euro anziani settimanale 2 48 60 quindi 2 1 2 3 4 5 ok via no è giusto ma perché mi mi lampeggia lì ma il navigatore da mamma mia mi fa cacassotto ogni volta i cacchi e dai e dai ma dacci su e mo è sparita prezzo a destra l'ha fermata ok questo non vuole salire perfetto ah no vogliono scendere oh eccolo qua eccolo qua ho trovato l'oggetto ma le porte sono chiuso sono aperte non ho capito io tutti a range pare è già l'ultima mamma mia c'è il mio amico però qua vado all'ora spero che non mi fa fare ritardo lui ma posso superarlo? eh lui fa la linea come me la linea 100 ragazzi guardate qua abbiamo già potenziato la linea a bomba guarda come corre ma come corre lui a bomba oh frena 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 si è addormentato un passeggero chi è che dorme? biglietto ok grazie abbiamo svegliato il passeggero quindi intanto lui se n'è andato fermo stop perfetto segui il gps raggiunto il capolinea certo ma quindi dobbiamo andare alla fermata 2 ragazzi ormai finiamocelo dai eh finiamocelo ormai il giro è quello eh ragazzi posso andare andare per saltare un binario porco ma c'ho la lumaca davanti io questo mi fa fare ritardo questo dai vai dritto tu fai finta di niente ah frena 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 mortacci su ma guarda come accella no sono andato dritto ma non mi fa vedere ma ah nel mondo vado eh indietro lo so che devo andare indietro ma mannaggia eh niente ragazzi me lo faccio off camera eh sto cacchio di di percorso qua spero che di riuscire in qualche maniera a risolvere sta situa ragazzi io che mentre vado a ecco ci vediamo eh in un prossimo video live eccetera eccetera mamma mia c'è un altro tram qua oggi mi stanno bombardando quindi ragazzi me lo finisco off camera il prossimo video vedrete il proseguo delle missioni del tram io non mi resta solo solamente che darvi la grazie a tutti e ci vediamo in un prossimo video live ragazzi ciao ciao a tutti amici ciao